Rimaniamo nel Regno Unito, nel nuovo episodio del Racing Podcast settimanale, dopo che settimana scorsa abbiamo parlato di Formula 1, eravamo a Silverstone, oggi parliamo di Superbike e ci trasferiamo a Donington Park, rimaniamo sempre in Inghilterra per parlare in questo caso però di un grande dominio, pronosticato alla viciglia, visto e confermato anche nelle libere, certificato assolutamente nella qualificazione, perché nel quinto round del mondiale delle derivate dalla serie e delle moto, il protagonista è uno e uno solo, ovvero quello bravo col 54 che corre, con BMW Motorrad Racing, ovvero Toprak, Rasgatioglu che non solo in qualificazione si permette il lusso di girare un secondo più forte di chiunque sostanzialmente, abbattendo il record della pista in qualificazione, ma appunto arriva a fare un allungo che potenzialmente potrebbe già essere decisivo per il campionato mondiale Superbike, che ricordo essere soltanto di 12 round, quello di Donington era il quinto, ma appunto Rasgatioglu arriva qui, figlio già della tripletta fatta a Misano appunto un mese fa, a Donington conferma la tripletta, indi per cui in questo circuito il turco può essere certificato come l'unico vero e proprio cannibale padrone in contrastato, una superiorità imbarazzante, figlio del fatto che comunque BMW aprono degli aggiornamenti molto importanti rispetto anche agli scorsi anni, nelle stesse condizioni, ma figlio del fatto che appunto a Donington, essendo una pista molto tecnica, anche comunque molto particolare come Misano d'altronde, Rasgatioglu rispetto a Bulleghe e Bautista, che ricordo corrono con Ducati, aveva nettamente margine, e appunto qui l'ha certificato e dimostrato ancora una volta in tutte le gare che abbiamo visto, che sia la gara sprint della domenica mattina o le due gare lunghe del sabato e la domenica pomeriggio, Rasgatioglu ha vinto con eoni di distacco, un pochino meno in gara sprint, ma appunto soltanto 10 giri, però comunque evidentemente è il lungo che potrebbe già essere il suo per il mondiale, sono 6 vittorie consecutive per Rasgatioglu, che appunto da Misano a Donington è arrivato a quota 48 vittorie di carriera, e di fatto già riesce ad avvicinare Alvaro Bautista, che comunque di vittorie è praticamente vicino alle 60, comunque è un campionato superbike che è ancora lungo, non siamo arrivati al Giro di Boa, ci arriveremo settimana prossima a Most, però appunto è un allungo potenzialmente importante, perché adesso il vantaggio di Rasgatioglu, sui primi lati inseguitori, è di 41 punti, tolto invece appunto il pilota turco che ha fatto il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda gara 1, gara sprint e gara 2, per il resto abbiamo avuto delle grandissime lotte per il podio, perché si sono alternati tantissimi piloti nelle posizioni ovviamente a ridosso del podio, ovviamente abbiamo confermato un buon Nicolo Bullega in seconda posizione, anzi uno straordinario Nicolo Bullega in seconda posizione, il miglior rookie per distacco dai tempi appunto dello Stato Park a Rasgatioglu, e poi abbiamo avuto tante alternanze in terza posizione, questo è il podio di gara 2, che appunto viene completato da Alex Lohs su Ducati, o meglio su Kawasaki, che appunto dall'anno prossimo però sarà certificata bimota almeno come telaista per un campionato superbike che appunto vede Rasgatioglu in testa, con 7 vittorie consecutive da gara 2 di Assen fino a Donington Park, 241 punti di fronte, soltanto uno straordinario Nicolo Bullega che limita i danni per quanto può e fa due secondi posti ovviamente, a disgabito però di una gara 1 non probabilmente felicissima, ma comunque sono 200 punti tondi, per il pilota di Montecchio Emilia è meno 41 da Top Park a Rasgatioglu, appunto abbiamo detto invece che per la terza posizione abbiamo avuto tantissimi piloti che ci sono alternati nel corso degli eventi, perché appunto in terza posizione in gara 1 abbiamo Alvaro Bautista, che qui a Donington invece ha fatto tanta fatica e ha seguito il passo, abbiamo invece il ritorno sul polo di Jonathan Ray, e questo è un podio significativo perché con Yamaha nella pista di casa finalmente il nord irlandese riesce a mettere una pezza a questi problemi di Yamaha, che comunque sulla carta è la terza forza in campo, appunto riesce a completare un podio, certo è in gara sprint, certo soltanto gli giri di gara, però può essere dal punto di vista morale già il risollevamento importante per il 6 volte campione del mondo e pilota più vincente di sempre della storia dello Superbike con 120 vittorie. In terza posizione invece in gara 2 abbiamo invece Alex Lowes, che invece ha fatto un grandissimo weekend, Alex Lowes è quarto assoluto in classifica mondiale, può essere un outsider in chiave podio il pilota britannico di Kawasaki, potenzialmente sì, quell'Orienton ha fatto come peggior risultato per i 5, certo non ha mai vinto, ma ovviamente chiunque che non si chiamasse Rasgatioglu, l'Orienton poteva assolutamente fare podio e fare due podi su tre gare, di fatto lo equipara a uno dei migliori piloti di questo weekend, per appunto un campionato mondiale Superbike che ha visto invece comunque delle conferme importanti, perché BMW non solo ha fatto bene con Toprak Rasgatioglu, ma ha fatto bene anche con altri piloti, e il più importante BMW a Donington Park è stato inaspettatamente Scott Redding, che porta a casa due quarti posti in questo weekend di Donington Park, ma potevano essere tre gare a punti nelle prime 5 posizioni, perché anche in gara 1, dove purtroppo Scottone si è ritirato, appunto partiva non solo terzo, ma poteva portare a casa una quinta posizione, invece un problema tecnico alla Melbourne lo pone fine anzitempo alle vellità di vittoria, è un weekend dove allunga Rasgatioglu, è un weekend dove però Bautista delude, Bautista prima di questa gara era di fatto il primo inseguitore di Rasgatioglu, ma fin generale da Ducati, tolto Nicolo Bullega, ha fatto una grande fatica, la casa di Borgo Panigale deve ringraziare il pilota Emiliano, che ha fatto veramente una grandissima gara e si sta confermando come essere lui l'anti Rasgatioglu, qualora ce ne sia uno, perché in questo momento storico Rasgatioglu è entrato in quella fase di rush, dove la vedo difficile vederlo non favorito per il Mondiale, la Ducati però come pacchetto in generale è la moto migliore, anche se appunto chi dovrebbe comandare, cioè Bautista ha fatto tanta fatica, terzo, sesto e quinto per il pilota spagnolo, invece Bullega l'ha nettamente superato, ma Bautista comunque va detto, ha fatto delle grandissime gare di rimonta per quanto poteva, ma perché appunto partiva in dodicesima posizione, un pochino indietro, in altre competizioni però anche partendo indietro Bautista ha dimostrato di saperci fare tanto di più, ma ripeto a Donington non si poteva fare più probabilmente la terza posizione, Bautista avrebbe rimettato danni se secondo me avesse fatto tanti podi in questa gara di Donington, non lo ha fatto più di tanto, infatti adesso il margine su Rasgatioglu è tanto significativo, perché sono 41 i punti di vantaggio su Bullega molti di più, su Alvaro Bautista che ricorda il più campione regnante di questa categoria, per il resto abbiamo una Yamaha che si conferma terza forza in campo, in questo giro però le BMW hanno occupato le prime dieci posizioni con Costanza, appunto due nelle prime quattro, una buonissima Kawasaki con Alex Low, su una Yamaha però ha preso le briciole della zona punti, parte alta quantomeno, quindi abbiamo avuto un Andrea Locatelli con un sesto e due settimi posti, abbiamo avuto comunque un Jonathan Ray che ha fatto delle buonissime gare, la Yamaha GRT ha fatto quello che poteva competendo la top 10, chi ha fatto fatica sono le altre Ducati, perché appunto ha tolto Petrucci, che comunque non è in piena condizione, ha fatto settimo, nono e sesto, le altre hanno preso veramente le piste da partire da Iannone, che fino a quel momento era di fatto nei primi cinque del mondiale, adesso è sceso indietro, dopodiché appunto gli altri sono essenzialmente after the music, per una pista molto tecnica che comunque fa il trittico di piste tecniche, perché settimana prossima la Superbike correrà a Most nel campione della Repubblica Ceca, altra pista molto particolare, molto impegnativa, Rasgattioglu sulla carta è favorito anche qui, la Ducati dovrebbe limitare i danni perché non abbiamo grossissimi rettilini, non abbiamo ovviamente delle sezioni di freno e accelera, da Portimao in avanti vedo la Ducati, secondo me più competitiva rispetto a Toppa che però dovesse vincere almeno due gare, ovviamente andrebbe ad allungare ancora di più al giro di Boa per il suo secondo titolo in carriera per quanto riguarda la Superbike, campionato che comunque è decisamente interessante, vista anche la competitività di tante case, perché già soltanto oggi abbiamo avuto quattro case sul podio, perché tutte tranne la Honda hanno portato almeno un pilota nei primi tre posti, BMW con Rasgattioglu, Ducati con Bautista e Bullega, Kawasaki con Lowe's e anche la Yamaha con Jonathan Ray, per te colpi ovviamente anche la Honda, ma anche qui la casa ovviamente della nuova Fireblade, è veramente indietro come la cosa del maiale, esattamente come in MotoGP, quindi è inutile parlarne più avanti, gli altri risultati li vediamo qui ovviamente nella grafica, passiamo adesso alle altre categorie, a cominciare dalla Supersport Next Gen, una Supersport Next Gen che invece anche qui vede un dominatore, il dominatore è il numero 99 sulla carena, corre per Ducati, anche qui per Team Aruba, lo stesso di Bautista e Bullega in Superbike, ed è Adrian Huertas che ovviamente completa un'altra grande serie, esattamente come Rasgattioglu in classe regina, in classe intermedia appunto Huertas riesce a fare il monopolio della gara di Donington Park, doppietta anche qui esattamente come a Misano, e quindi il vantaggio rispetto a Ghiari Montella, il formato inseguitore è aumentato, ma qui il vantaggio è più risicato, sono 186 punti per Huertas, 161 invece per Ghiari Montella, che va detto però in realtà a gara 2 l'avrebbe anche vinta, ma per aver ecceduto di un micron, il limite della pista all'ultimo giro, per regolamento deve cercare una posizione, una penalità oggettivamente molto dubbiosa, però il regolamento evidentemente va applicato in questo senso, e quindi Montella che aveva fatto una grandissima gara, sotto il record della pista in gara, sul contesto del 26-3 in gara 2, deve cedere a Adrian Huertas, che dunque vince due gare e dunque allunga in classifica, per due volte suona la marcia reale per Adrian Huertas, i podi sono completati per quanto riguarda gara 1, da Stefano Manzi, secondo con la Yamada del Team Tenkate, terzo assoluto in classifica del campionato, e lo stesso Iari Montella, che invece cede purtroppo la vittoria per pedalizzazione in gara 2, invece arriva il primo podio in questa stagione, per quanto riguarda la Supersport, per Orkè Navarro, che in corso di stagione in realtà cambia il team, fino a due gare fa, cioè Misano era nel Team Triumph, adesso è andato in Ducati, nel Team Oracle Racing, al posto di Lorenzo Baldassare, che invece è andato al posto di Navarro, ma Baldassare continua invece a fare una fatica immensa, per un Mondiale Supersport, che invece vede tre principali contender, per il titolo del mondo, Huertas e Montella su Ducati, e Stefano Manzi su Yamaha, perdo in molte speranze, Malser Schroeter, pilota tedesco di casa MV Agusta, che poteva evidentemente concretizzare molto in questa Donington Park, e invece fa soltanto l'undicesimo posto in due gare, e quindi punti persi fondamentali per il pilota tedesco. L'altra categoria di supporto, che invece ha corso a Donington Park, è stato il campionato mondiale femminile, non c'era la Supersport 300, un mondiale femminile che doveva riscattarsi, un po' dal peggior inizio della storia di un campionato mondiale, perché ricordiamo in gara 1 di Misano tantissime cose, tante mangiere rosse, e tante critiche per l'indisciplina delle pilote, che invece da gara 2 di Misano in avanti, sono leggermente disciplinate per un campionato mondiale, ricordiamo che ha sei gare in programma, tra cui Cremona, apro parentesi, sarò presente a Cremona nella giornata del sabato, e quindi avrete modo di vedere i vlog dal vivo, come tutti gli altri anni, per ovviamente però un campionato che resta soltanto spagnolo, perché abbiamo avuto quattro triplette spagnole, in quattro gare vince Ana Carrasco, gara 1 davanti a Beatriz Neila e Sara Sanchez, ovviamente per quanto riguarda il sabato vince Maria Herrera, gara 2 davanti alla stessa Carrasco, e alla stessa ancora una volta Sara Sanchez, quattro podi in quattro gare per queste grandi tre pilote spagnole, che hanno comunque tanta esperienza nelle altre categorie, Carrasco ed Herrera su tutti, Carrasco ha vinto un mondiale con i maschi nel Supersport 300, Herrera corre in moto E da anni, e ha corso anche in Supersport 300, e in Supersport 300 ha tanta esperienza in tal senso, Herrera però ha vinto tre delle prime quattro gare, e quindi si è issata come netta favorita di questo campionato mondiale femminile, per tutte e tre queste pilote suona la marcia reale, piccola parentesi, la apriamo sulla nostra unica portacolori regolare del campionato mondiale femminile, che è Roberta Ponziani, che sulla carta può giocarsi la terza posizione con Sara Sanchez e Beatriz Neila, purtroppo però ha un contatto in gara 2 con Ornella Ungaro, pilota francese, la relega con 0 punta in gara 2, ma poteva portare a casa un'ottima quinta posizione, e continuava la streak di risultati in top 5, per un campionato che riprenderà le proprie ostilità a Algarve, e quindi Portimao. Questo dunque è reso in potere quanto riguarda la Superbike, che ricordo invece, tornerà settimana prossima a Most, per arrivare al giro di Boa della stagione, alla sesta gara di 12, con Rasgatioglu nettamente in race, netto favorito per il campionato del mondo, voi come lo vedete? Vedete il turco vincitore del secondo titolo del mondo da qui, a ottobre quando finirà il campionato, vedete una Ducati in netta risalita, Boulig e Bautista riusciranno a mettere la parola fine all'egemonia del turco di questo periodo? fatelo sapere nei commenti qui sotto. Il saluto da parte di Matthew Thorgard, ci vediamo al prossimo video.